Un ragazzo ieri a Shinjuku, alle 12.05 dell'ora di pranzo, ha fatto un gesto estré, si è legato a collo, a corda si è buttato, in pieno ola di punta. I giornali portano che soffriva di problemi mentali, fosse dovuti a depressione, fosse dovuti a diverse situazioni. Il problema è che sarà l'ennesima persona che farà rumore in questo paese, senza logicamente essere poi alla fine dimenticata. Non avete idea di quando negli ultimi mesi non mi serve un video di un youtuber giapponese che parla inglese, da dover tradurre, per spiegarvi quanti episodi assurdi si sono sviluppati qua in Giappone. Ho scelto anche questa tipologia di ripresa così, sono in una stanza, c'è una luce piccola davanti a me, in un angolo, nell'angolo dove molte di queste persone si mettono da soli, abbandonate dalla società. Sono completamente inermi davanti alle problematiche, al fatto di essere per sfortuna deboli ragazzi, perché non hanno la forza di poter reagire. Una cosa che ho capito in 5 anni in Giappone è che in questo paese devi essere forte, devi mostrarti forte, devi sempre far vedere che va tutto bene, che sei in forma, che non hai problemi. Mai far vedere le debolezze, mai far vedere tutti i dubbanze, mai far vedere la parte umana, ma devi sempre, costantemente, costruire un'immagine che non è reale. Sempre far vedere quello che realmente non sei, quello che realmente non vivi. Portare con te una maschera, tutto il tempo. E forse in quel momento queste persone qua vorrebbero anche qualcuno a cui parlare, qualcuno a cui raccontare, ma la società è talmente tanto inorganizzata, impostata nel fatto che ognuno pensa a se stessi. Ognuno pensa a se stessi, ragazzi, e ognuno gli frega niente e premia negli altri. Questa alla fine è la base di tutto quanto. La cosa assurda è vedere che c'è gente che va su Twitter a cercare altre persone che vogliono farla finita, e si organizzano. E hanno trovato varie macchine con persone passate a miglior vita. E a un lato del Giappone, Dark Star, che è uno dei peggiori, questo qua, è fatto del silenzio, c'è il rumore del silenzio. Il fatto che con tutto che sei in una città come Tokyo, sei nel mezzo di Shinjuku, un po' di gente, eppure sei, con così tante persone, eppure sei solo. Perché in fondo sei debole in una società che va più avanti di te, che marcia senza mai fermarsi. Una delle cose che mi spaventa di questo paese è che, con l'arrivo di un'altra crisi economica, come quella degli anni 90, la nuova generazione non sia pronta ad affrontarla, minoramente proprio. Psicologicamente sono molto vulnerabili. E non lo dico perché leggo articoli solo. Io lavoro con i giapponesi, raga. In periodo di dicembre lavoro con molti ragazzi giovani tra i 18 e i 20 anni. E non sono i nostri 18-20 anni. I giapponesi vivono quella parte della loro età che va, l'adolescenziale, dai 12 in poi, in maniera molto diversa dalla nostra. Tutta la loro vita viene messa su un piano organizzativo che li dovrà portare ad accedere alla migliore scuola, che li porterà al migliore liceo, che li porterà alla migliore università. Perché poi, alla fine di tutto, quando quell'arrivo gli garantirà un lavoro. Un po' per possibilità propria, un po' perché la famiglia si impreme. Ci sono... Non bisogna deludere i parenti, non bisogna deludere i genitori, quindi bisogna dare il massimo. Finisci la scuola, fai il corso serale, fai un'attività. L'unica cosa a livello sociale che fai sono i club. E quindi stai fuori tutta la giornata e quando hai finito studi, dalle 8 alle 8 di sera, non hai niente. Molti giapponesi non fanno come facciamo noi, fino a quando non vanno all'università. Che sono leggermente più liberi e possono uscire, fanno parte, bevono. La legge li permette i beracolici, tutte queste cose qua. Molti non ce la fanno. Il video che ha fatto una vita sul discorso dei giovani giapponesi che fanno la scelta estrema non è solo il problema scolastico di essere presi in giro. Quello è l'ultimo della situazione, non è solo quello. I problemi subentrano in famiglia, dove il 70% di chi si sono stati intervistati, di molti giapponesi, sono convinti che utilizzare le punizioni fisiche sui propri figli è un modo per educarli. La mortificazione. In sé per sé, questa forma di mortificazione vi sta tra virgolette anche bene, perché se minimamente qualcuno la considera un problema, perché non affrontarla? Io questo dico, perché? Perché viene accettata, viene lasciata passare come fosse normale. E la cosa si sta aggravando perché i giapponesi hanno scoperto i social, quindi tutto quello che fanno lo mettono online, quindi questa gente viene mortificata ancora di più. Ecco perché stiamo assistendo a casi molto più estremi negli ultimi due anni, l'aumento del numero di giovani che fanno le scelte estreme, per semplice motivo perché tutto si sta incicandendo. E quando ti trovi in altra parte che ogni sistema scolastico, sistema sociale non ti aiuta più aiutando, perché chiedere aiuto è complicato in questo paese, cioè questa è sempre una cosa banale, è di una semplicità disarmante, eppure per i giapponesi è complicato chiedere aiuto, è complicato far vedere la propria debolezza, loro credono che sia debolezza, ma io credo che sia essere umani, maledizione, è semplicemente essere umani, non puoi sbroccare un alimentare, prendere un coltello, compri un coltello è il primo che ti trovi davanti solo perché ti sta antipatico, gli affetti la schiena, cioè c'è stato un articolo adesso è uscito a Osaka, che credo oggi, oggi ieri, oggi credo, ma mi ha spiazzato, cioè questo è stato detto io come da un coltello con l'intenzione, con l'intenzione, tre anni fa mi ricordo con la Sasakusa, il vecchio che ha affettato un ragazzo che stava là la fermata del treno, altri casi così di attacchi, io a volte uno mi chiede ma già cosa hai paura? Non ho paura di tornare a casa a piedi la sera, che sarebbe la cosa più assurda, cioè io a casa a piedi ci torno e nessuno mi tocca, ho paura che qualcuno quando c'è l'ora di punto nella stazione o in centro commerciale sbrocchi, che qualcuno perda il controllo e in quel momento faccia una cosa che gli estremo, cioè hai paura di stare in contatto con il casino della gente, perché non sai chi, in quel momento chi è che, qualcuno potrebbe sbrocà, qualcuno potrebbe dar di matto, perché molti di questi soggetti sono tutte le bombe a orologerie raga, loro non hanno nient'altro che assorbire, 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 immaginate questa gente che viene mortificata forse su posti di lavoro, viene derisa dai colleghi, mortificata dal capo, poi riesce a lavorare ed è obbligato andare a fare le bevute con i colleghi e continuano a massacrarlo, lo mettono in ridicolo davanti alla collega femmina, costringendolo a chiamare, a mandargli un messaggio al quale lui dovrà scusarsi, al quale lui rischia perché anche un semplice messaggio non ci può passare come un tentativo di violenza, quindi lei potrebbe anche denunciarlo, ma c'è una situazione del genere, tu non puoi dire no perché il capo te l'ha chiesto, quindi tu il lavoro lo vuoi proteggere, sei debole, caratteramente e ti pieghi a questa cosa qua, torni a casa e nel male che ti va sei solo, sei solo, o molte volte ci sono situazioni in cui hai una relazione matrimoniale che non è proprio al massimo, non hai una via di uscita, questa gente assorbe, assorbe, assorbe e poi arriva a un punto che dà di matto e questo è, se uno dice già qual è la tua paura in Giappone è questa, è che qualcuno possa sbroccar, questo è che non hai idea, cioè perché è talmente tanto impossibile, è impossibile ragazzi da capire, io noto una cosa qua a Sendai e credo che si possa notare a Tokyo una dieci volte più, una città molto più grande, il numero di persone di una certa età che girano e li vedi che non sono persone che hanno in piena salute e hanno tutti quanti gli atteggiamenti di chi ha demenza sinile, e poi vai a vedere un po', giri un po' e vedi che ci sono un sacco di situazioni del genere, di casi del genere, cioè che le famiglie lasciano questi anziani totalmente da soli, l'importante è che sono capaci con le loro gambe di fare la spesa, di comprare stia a mangiare, ma non stanno bene, li trovi in alcuni negozi che fanno cose senza senso, o in strato, nei treni, nelle stazioni, completamente abbandonati, questa gente, io dico ho resi conto che questi qua forse non stanno bene, hanno bisogno di un supporto, ma il supporto costa, perché in Giappone la sanità costa, quindi non è che puoi ottenere un supporto senza cacciare i soldi, e il discorso che torniamo sempre è quella cosa che nessuno vuole prendersi responsabilità, quindi un sacco di sti anziani, di sti persone vivono alla sole, lasciate da parenti, figli, è una cosa che io cerco di capire il perché, questa forma di leggerezza, che io chiamo leggerezza, me ne freghismo di base, puoi poi vedere scene nel quale tipo, cioè un'altra donna oggi l'hanno arrestata perché viveva con il corpo della madre in casa, da quello che i medici hanno dedotto sembra che è stata colpita e poi la figlia ha confermato, quindi, sta gente che sono rimasti chiusi in casa e si sono isolati, mantenuti dai genitori sperando che i medici speravano fosse qualche cavolo di miracolo, non so cosa, che dalla sera alla mattina sta gente che la figlia, lo figlio tornasse normale, ma dopo che vent'anni tuo figlio non cambia, io comincerei a vedere un po' cosa fare, perché poi vive una certa età che non ce la fa, questo arrivano a 85 anni e la figlia in casa a 50 è qualcosa, cioè, e vedi queste scene, queste cose qua, io lego un sacco di notizie, ragazzi, è complicato pure fare dei video perché molti, molti, potremmo, il posto di manco di youtube non li accetterebbe mai, ma anche questo qua potrebbe non accettarlo visto che ci sono contenuti in un certo peso, questo è la cosa che mi spiazza a me, il rumore della solitudine, credo sia a titolo del video sia questo qua, il rumore della solitudine, quello è, poi vi parlerò in un altro video di quando questa, di questo rumore sia, sia pericoloso per noi stranieri, è già fatto vittime, è già fatto un canzacco di casini, perché molti di questi ragazzi che vengono da altri paesi, tutti asiatici, col sogno del Giappone è perfetto, e poi arrivano qua e la loro vita si trasforma in un incubo, e credo che in un prossimo video vi racconterò di come alcuni giovani qua in Giappone vivono l'esperienza di cambiare il futuro, del sogno del Giappone, del Giapponese, di una vita migliore, a un momento vi lascio, ragazzi, e non so, riflessioni, ragazzi, perché questo è, a me piace essere così, mi piace raccontare un attimo anche quelle emozioni, quella cosa che mi passava la testa, perché, logicamente, io vi lascio il link in descrizione, come sempre, ed è complesso di tutto, informazioni, logicamente la gente ha scattato foto, quindi, io non mi permetterò mai di metterle sul canale, su un video, ma l'informazione è informazione, quindi, poi, poi, la scelta di aprire il link o meno, dell'articolo, un bacio, ragazzi, fate bravi, a prossimo video al Giappone.